Studiavano lì, so che volevano restarci, poi non so, non ce l'hanno fatta e sono venuti qui. Motivi di soldi credo, morale, non si sono un granché ambientati, lei soprattutto. Ma di la cassa? Sì, sì, vengo, vengo. Tornando a mia madre, non credo di volerle bene perché è mia madre. A volte provo a immaginare che non lo sia, beh, mi piace lo stesso. Spesso so quello che sta pensando in anticipo senza bisogno di parole e lei lo stesso con me. Credo che si chiami sintonia. Grazie. Hai visto il giudizio? No. Si richiede quanto prima un colloquio con i genitori, dal tema della ragazza emerge infatti una pericolosa situazione di vuoto morale che potrebbe condurla su qualche via senza ritorno. Addirittura. Ma no, io qui ci vedo sotto un po' di rabbietta della tua professoressa perché io e papà insegniamo, non siamo ancora venuti da lei, quindi penso io. Comunque non lo so, secondo me, secondo me in teo è bello. Però è un tema un po' scomodo, eh. Attenzione perché allo modo stile è contato e si deve, la mia spada è al vostro piatto. Mamma, le foto? No, ma io non posso spendere tanto in foto, andiamo. Dai. Sempre foto. Sono solo una strezza. Dai, dai. La popolazione della famiglia. Interessante.